Voi sapete che abbiamo avuto occasione di ricordare anche con una bellissima mostra nella Sala del Confalone quel passaggio della storia d'Italia dal febbraio del 44 a luglio del 44 quando Salerno ha avuto il ruolo di capitale d'Italia. Un momento di grande solennità per la nostra città ma per l'Italia perché in quei mesi si è definito il percorso costituzionale della nuova Italia, in quei mesi i decreti del governo di Salerno hanno avviato sia il percorso referendario sia il percorso per l'elezione della Costituente che poi ha dato vita alla Costituzione italiana. Dunque per noi è un motivo di orgoglio sottolineare il fatto che la nostra città ha ospitato il governo nazionale ed è stata capitale per alcuni mesi ma è ancora più importante ricordare i valori che quella rinascita democratica espresso e interpretato per tutti gli italiani. Siamo davvero orgogliosi, un piccolo gesto lo ripeto ma carico di grandi valori simbolici.